Siamo nel laboratorio di informatica del liceo scientifico Ludovico Pepe di Ostuni. Ai PC, corsisti e docenti davvero singolari, nonni e nipoti che si misurano sulle nuove tecnologie dell'informazione. Un progetto nato dalla collaborazione tra la Fondazione Mondo Digitale di Roma, l'Anteas e il liceo scientifico Pepe. Il secondo anno del progetto Nonni su Internet che abbiamo avviato l'anno scorso ed è un progetto nato dall'intesa fra la nostra scuola, liceo scientifico Pepe, la Fondazione Mondo Digitale e l'Associazione Anteas di Ostuni. Questo progetto vede la partecipazione di un gruppo di corsisti chiamati nonni, cioè giovani pensionati che decidono di misurarsi con le nuove tecnologie della comunicazione e dei giovani tutor i quali hanno aderito con la grande disponibilità. Il corso si svilupperà in una ventina di lezioni in cui oltre delle brevi pillole di informazione che noi diamo con delle video lezioni si passa poi subito alla fase operativa in cui i giovani e gli adulti smanettano subito con il computer e mettono a frutto quello che hanno acquisito nelle video lezioni ma lo arricchiscono con tante cose che nascono proprio dalla collaborazione fra giovani tutor e nonni. Da questo corso che abbiamo fatto al liceo scientifico Vico Pepe di Ostuni abbiamo sicuramente imparato a usare il computer grazie all'ausilio e all'aiuto di questi ragazzi del liceo che comunque hanno avuto tanta pazienza ad approcciarci con noi che non sapevamo nemmeno accenderlo il computer. Abbiamo imparato a navigare su internet, a chattare e insomma a metterci al pari di altri che come noi si cimentano benissimo. La cosa più bella di questa esperienza è che secondo me per la prima volta non sono i nonni a dover insegnare qualcosa ai ragazzi ma siamo noi ragazzi a dover insegnare qualcosa a loro quindi è come se ci sia un cambio di ruolo in questa nostra esperienza. Grazie. 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 Grazie.